La morte di Giulia Cecchettin ha cambiato qualcosa, nel sentimento di una coscienza popolare che evidentemente esisteva già, ma che appunto l'ultimo femminicidio ha reinnescato come una miccia, facendo esplodere davvero una grande voglia di cambiamento che si sente nelle donne e anche negli uomini di questo paese. Per dire basta che cosa, la violenza di genere, la violenza contro le donne che può essere declinata in molti modi diversi, può essere fisica, può essere economica, può essere psicologica, può essere verbale, a volte arriva al femminicidio, ma quello è solo la punta dell'iceberg. E proprio per cogliere questo cambiamento che c'è, che si sente, che è fortissimo, questa voglia di fare rumore appunto contro la violenza di genere, il nostro quotidiano, la nazione, il gruppo QN ha deciso di metterci la faccia, di metterci anche il corpo.